Ciao a tutti ragazzi, qui è Simone Eilick e stiamo facendo un video su Growtopia. Spero che vi piaccia. Entri? Ci vuole un po'. Eccolo. Signore, come sta? Non si faccia vergognare! Ma porca vacca! Dito, dito! Sì, dito! Tengo anche un cartello. Caltello? E mi chiamo. Tu entrare in questo cartello e tu non entrare. Ah sì? Io ammazzare tua famiglia. Hai capito? Tu entrare, tu entrare. Yololololol. E vai? Dacci! Oh, mi sono dimenticato l'erba. Porca vacca! Mamma e chicca! No, cosa è raga? Non c'è fatto tutto il lavoro. Va diventato... Va piccante. Ok, trovato, diamo. Eccolo di nuovo. Entrando nel suo mondo, rientra qui. Ma perché? E ti spingo sulla luna? Io non lo so, questo... Questa cosa. È un po' strano. Andiamo nel tuo mondo. Dai, andiamo? Andiamo? Digati. Ma va. E' qui! Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok. Zunga, vini Ah, eccolo Non dice niente Per caso è mia, parla, no? Va bene Andiamo in game Dobbiamo presentarci il gioco Come si fa il game Ok Ah, evitando di non morire A caso, fatto Andiamo in iFox1 Doci, ecco Facciamo trade un attimo Ok Ok Cosa mi offri, signore? Toma, chi se ne frega a caso Dammi qualcosa Io non ne posso mettere le note musicali Non so che c'è il mondo L'ho speso per l'acqua Mi dispiace Dammi qualcosa Non mi dare troppa lava Thanks, grazie, grazie Grazie, grazie Accetto, io accetto Grazie No, thanks Grandissimo che sei Allora, in questo video Dovremmo fare Dei troll Dei troll Cioè Ci dobbiamo Fare dei knob Ci vestiamo da knob Eilid Cioè Praticamente niente Cioè A caldo Ok E spiegati però un troll Bravo 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 Ok Ora andiamo a fare un troll In un mondo a caso Andiamo In un mondo a caso Ok Abbiamo tratto uno Noob Aprite A noob A noob A noob A noob A noob Mondo troppo trafficato In un altro mondo Oh my god Ciao Game Ma cos'è raga No Troppo What What Oh my god No Dove c'è È entrato qualcuno A spaccare il pot Oh my god No Oh my god Mmm Andiamo a questo A caso Proprio Oh no Voglio fare il game I leak Non c'è nessuno Da trollare Oggi stranamente Andiamo in block school Dai C'è niente a fare Oh vieni Ecco Quante le volte Che sbaglio Chi entra Allo spazio Di essere la luna Ok Non stanno entrando nessuno Stanno entrando nessuno Stanno entrando nessuno Stanno entrando nessuno So Guarda quando faccio così che roma gigante ok, gioca mon again dai oh my god oh my god oh my god 3,2,1, dance 3,2,1, dance 3,2,1, dance ho sbagliato ma che è entrato? è un knob ma poi italiano aprili dai fallo entrare scrive a caso sto qua che cosa scrivi? allora spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al... ecco chi era e porca comunque ma che è un'